Loro sono Ivan e Dilan e Dama e Hero Accademia interpretano Midoriya e Holmite. Loro sono Ivan e Dilan e Dilan e Dilan e Dilan. Loro sono Ivan e Dilan e Dilan e Dilan e Dilan e Dilan. Loro sono Ivan e Dilan e Dilan e Dilan e Dilan e Dilan. Ahhhh Il tuo raggio non è la stessa Riré scale adgriffi e non c'è non altro Abbiamo troppo lungo quotidiano Io vi tocriori e Katherine Signor però Signora Don't be fair Per qualche ragione che non metti, non metti i colori nel mio modulo. Mi dispiace! Mi dispiace! Mi dispiace! Mi dispiace! Ti sbagli, mamma. Cerca di prendere tutti i miei successi. Quella volta, le parole che hanno avuto mi sentito dire... Anche tu puoi diventare un eroe. L'ultra!